Stamattina con il comando vigili urbani e la protezione civile del comune di Trecase stiamo facendo un'azione di monitoraggio del territorio, in particolare siamo nell'ente parco nazionale del Vesuvio nell'ambito della perimetrazione del parco appunto e stiamo facendo tutta un'attività di controllo e di avvistamento per gli ingenti boschivi quindi siamo qui a un punto particolare, suggestivo anche, dove si possono vedere in maniera abbastanza chiara eventuali principi di ingendio e questa è un'opera che stiamo svolgendo da più giorni quindi metodicamente facciamo questi controlli proprio per eventualmente intervenire subito e mettere fine ad ogni principio di ingendio.